Coronavirus possibile una nuova stretta, il premier Conte ha escluso che per ora si voglia arrivare a lockdown totale, il governo cerca di ridurre svaghi e spostamenti con l'ipotesi di un coprifuoco nazionale, focolaio coronavirus in una casa di riposo di Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento, allo stato attuale sono 15 tamponi risultati positivi, veglia di preghiera ieri sera con il vescovo di Mazzara del Vallo per i 18 marittimi che si trovano rinchiusi in una prigione libica da più di 50 giorni, a Bagheria le opere di Alec Rebel in mostra a Villa San Cataldo, un'arte segnata da un tragico incidente stradale di cui lo stesso artista è stato vittima. Serie C, Palermo a forte rischio rinvio anche il recupero della seconda giornata contro il Potenza, in programma giovedì prossimo lo stadio Renzo Barbera a causa di altri positivi al coronavirus. Nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 24 ottobre. Coronavirus possibile una nuova stretta, il premier Conte ha escluso che per ora si voglia arrivare al lockdown totale, il governo cerca di ridurre svaghi e spostamenti con l'ipotesi di un coprifuoco nazionale e la chiusura di bar e ristoranti alle 18, in modo che i cittadini si muovano solo per studio e lavoro. Ipotesi coprifuoco dalle 18, stretta su palestre e centri commerciali, è in arrivo il nuovo DPCM anti-covid-19. Al momento sul lockdown totale, sul blocco di scuole e attività produttive, c'è il fermo no del premier, ma c'è un'accelerazione per una stretta nazionale per contrastare il diffondersi del contagio. L'obiettivo è limitare ancora di più svaghi e spostamenti e fare in modo che i cittadini si muovano durante il giorno solo per studio e lavoro. La linea dura adesso condivisa da tutto il governo sembra condannare palestre, piscine e anche circoli sportivi dove finora erano consentiti gli allenamenti. Si potrà continuare a fare jogging e attività motoria con le regole in vigore durante il lockdown, ma i campionati non professionistici dovranno fermarsi. Quasi certa la chiusura nel fine settimana dei centri commerciali, dove si creano assembramenti ad alto rischio. I negozi al dettaglio resteranno aperti, ma non è escluso uno scaionamento degli orari per alleggerire il trasporto pubblico. Quanto ai mercati rionali, o si fa una strata sulle regole o saranno chiusi. Estetisti e parrucchieri dovrebbero rimanere aperti, con controlli molto più serrati sul rispetto dei protocolli e ordinanze di chiusura immediata perché risulta non in regola. Quanto ai bar e ristoranti, il tentativo è evitare di colpire ancora un settore già molto provato, ma una nuova stretta serale sembra probabile. Si discute sugli orari, portare la chiusura dalle 24 alle 23 servirebbe a poco, si starebbe ora valutando un coprifuoco dalle 21 o 22. Ma l'idea con più effetti, secondo gli esperti, potrebbe essere quella di far chiudere bar e ristoranti già alle 18. Alleggerire il trasporto pubblico è la principale premura in queste ore, oltre al rafforzamento del sistema di tracciamento dei contagiati. Ma proprio sui trasporti e la scuola si starebbe consumando un rimpallo tra ministri che avrebbe per ora frenato anche la convocazione della riunione con le regioni ipotizzata per armonizzare le misure regionali. Lucia Azzolina, sulle barricate in difesa e la didattica in presenza, ha chiesto di precisare la percentuale di didattica a distanza per le superiori e spera che questo basti a far venire meno gli ingressi scaionati. Quanto agli spostamenti, si discute sull'opportunità, visto la diffusione del virus, di intervenire impedendo di muoversi dalle regioni. Più probabile dare indicazioni perché si limitano al massimo le uscite non necessarie. Covid a Messina, scatta la nuova ordinanza sindaco Di Luca, tutelate le attività lavorative, sia al coprifuoco notturno che ai atturni pomeridiani scolastici e nelle pubbliche amministrazioni, anche il sabato, smart working al 50%. Con una nuova ordinanza sindacale, l'amministrazione comunale di Messina, considerata l'attuale impennata epidemiologica su tutto il territorio siciliano, in osservanza alle disposizioni nazionali, ha disposto un pacchetto di misure che mirano il contenimento del contagio da Covid-19. Sono autorizzate le cerimonie civili e religiose con la partecipazione massima di 30 persone. È importante precisare che in tale numero non devono essere conteggiati conviventi, congiunti e di parenti ed affini fino al secondo grado di entrambi gli sposi. Le attività commerciali, così come i servizi bancari e postali assicurativi, si svolgono regolarmente a condizione che siano rispettate le distanze e gli ingressi dilazionati per evitare assembramenti. I servizi di ristorazione sono consentiti con i seguenti orari. 5.24 per la somministrazione al tavolo, 5.18 senza servizi al tavolo. Resta consentito il servizio di asporto. Restano sospese le attività in discoteca e le feste. Per quanto riguarda la scuola, sia per gli istituti di primo che secondo grado, sono tenuti ad adottare i turni pomeridiani per lo svolgimento delle lezioni, in alternativa la didattica a distanza. Inoltre per gli istituti superiori le lezioni avranno inizio, non prima delle 10. I dirigenti scolastici sono tenuti a non accettare le iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022, se ciò comporta la violazione delle disposizioni in termini di distanziamento interpersonale in proporzione alla capienza delle aule. Entro giovedì 29 ottobre, inoltre, i dirigenti scolastici dovranno assumersi le proprie responsabilità, producendo un'attestazione dell'avvenuto rispetto delle condizioni di sicurezza. Sospesi viaggi di istruzione e gemellaggio. Per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica, al fine di garantire pari opportunità agli studenti con disabilità, l'azienda Messina Social City incrementerà a 12 ore il servizio di assistenza agli alunni, potrebbero diventare 18 come senso di civiltà. Per gli studenti che salvagono il trasporto pubblico locale, l'ATM è tenuta a rimodulare gli orari di lavoro, con raggiungimento dell'obiettivo di evitare assembramenti inutili. Focolaio coronavirus in una casa di riposo di Santa Margherita, di Belici, in provincia di Egrigento. Allo stato attuale sono 15 i tamponi risultati positivi. Intanto sono in arrivo i fondi per la zona rossa di Villafrati. Al comune del Palermitano andranno 115 mila euro. Come si temeva, dice il sindaco Franco Valenti, dieci anziani e cinque operatori sono affetti dal coronavirus. Adesso si attende soltanto l'esito dell'ultimo tampone. Tre degli anziani contagiati sono stati ricoverati in ospedale e gli altri positivi sono tuttora all'interno della struttura. Tra di loro c'è anche la direttrice della casa di riposo Pitagora, di Santa Margherita di Belice, che continua a chiedere lo sgombero dell'RSA. Focolaio anche nella casa di riposo Collegio di Maria, della vicina Sambuca di Sicilia. E c'è preoccupazione anche in altre zone della Sicilia. Vittoria, ad esempio, è la città della Ragusano, con il maggior numero di contagiati. C'è il timore che il virus possa propagarsi ancora. Da qui la decisione dei commissari di chiudere le strade nelle ore notturne. Arrivano intanto nuovi fondi per aiutare questa volta le comunità locali più colpite dal Covid-19. Al comune di Villafrati, in provincia di Palermo, che qualche mese fa fu dichiarato zona rossa in piena emergenza coronavirus, andranno 115.000 euro dei 40 milioni di fondi del Ministero dell'Interno stanziati per il 2020. Contributo che servirà al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale, in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Lo dichiara la parlamentare padernitana del Movimento 5 Stelle Roberta Laimo. Ne approfitto, dice, per rivolgere un augurio di pronta e completa guarigione al sindaco di Villafrati, che proprio nelle ultime settimane è stato ricoverato a causa del Covid e a tutti i residenti del Paese che stanno vivendo questo periodo particolarmente difficile. Covid nel Catanese. Positivi al tampone e in giro per le strade. La denuncia del sindaco di Belpasso, Daniele Motta, 84 gli ultimi positivi accertati. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco di Belpasso in provincia di Catania, Daniele Motta, ha fatto il punto della situazione sull'andamento dei contagi da coronavirus in città. Dall'ASP un bollettino con un carico pesante di 12 contagiati in più rispetto a ieri. Questi dunque i dati aggiornati dal 3 agosto sono 98, in totale i casi positivi registrati a Belpasso, 84 i casi attivi, 11 guariti tra i deceduti. Tra i casi attivi sono saliti a 6 gli ospedalizzati, afferma il primo cittadino. Come già anticipato, considerato e sviscerato più volte, la tendenza sia a livello nazionale che a livello regionale è quella di non richiudere nuovamente l'Italia in un lockdown che assumerebbe contorni disastrosi per tutti, ma la tendenza è quella di limitare, vietare e comunque favorire la convivenza con un virus che, nonostante tutto quello che si sente, ha perso non ancora del tutto la sua iniziale carica virulenta. Prova ne sono la stragrande maggioranza di asintomatici in isolamento domiciliare. E continua, continuiamo a riunirci l'esistenza, rimanendo vittime inconsapevoli di un certo terrore, bombardamento mediatico, deleterio, soprattutto per i soggetti per sensibili e bambini, oppure cerchiamo di uscirne reagendo concretamente con consapevolezza e coscienza. Un esempio semplice e chiaro, se effettuate il tampone privatamente e risultate positivi non andate in giro, approfittando del fatto che l'ASP, comprensibilmente al limite del collasso, non ha ancora dato disposizioni di quarantena. Difficile a credersi, ma è successo davvero e questo non lo possiamo tollerare. Anche questa inciviltà. Faccio appello al senso di responsabilità di ognuno che nessuno usi la mascherina come accessorio, ma che la indossi. dà fastidio a tutti, ma è l'unico modo per non contagiare ed essere contagiati. Veglia di preghiera ieri sera con il vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavro, per i 18 marittimi che si trovano rinchiusi nella prigione di El Quaifia da più di 50 giorni. Alla veglia ha partecipato anche l'imam della moschea cittadina, Ahmed Tarba. Tra i marittimi sequestrati ci sono anche sei tunisini e due senegalesi. Siamo qui perché il tempo si sta facendo troppo lungo e gli sforzi umani a quanto pare non riescono a raggiungere lo scopo che a tutti sta nel cuore. Per cui vogliamo forzare la mano di Dio in preghiera anche con l'imam musulmano perché veramente ci metta tutta la sua potenza per smuovere una situazione che sembra bloccata. E la nostra speranza, siamo qui per dire affettosità ai vicini, ai familiari, ma soprattutto ai nostri 18 uomini prigionieri in Libia. E che il Signore veramente muova e addolcisca i cuori perché si trovi una soluzione che ci consenta di poterli presto riavere e riavviacciare qui con tutto il cuore. Siamo spiaciuti, abbiamo sentito questa notizia che noi abbiamo avvicinato tutti loro e i familiari di loro che sono qua perché diamo una preghiera per Dio per fare esseri sentire i genti che fanno liberare questi genti perché tutti i familiari hanno bisogno di questi, del membri di loro che sono padri, sono fratelli, sono figli, tutti i familiari, sono in angoscia. Siamo molto sbiacenti per questo fatto, chiediamo a Dio, subhanahu wa ta'ala, Dio grande, Dio, nostro Dio, tutti Dio per noi, siete voi, siete a noi che i muslimani, che i cristiani, che chiediamo a Dio che fa liberare loro che sono in angoscia. Siano tunisini, siano italiani, siano muslimani, siano cristiani, non importanza, noi siamo tutti figli di Dio. È un atto dovuto come Cigelle Cisle Will di categoria della pesca, fin dal primo momento ci siamo così stretti attorno ai familiari cercando di fare il possibile per aiutarli in questo momento particolarmente difficile. Occupavano un immobile confiscato alla mafia. La Guardia di Finanza di Carini ha denunciato due coniugi. Nell'ambito dell'intensificazione del controllo economico del territorio, i finanzieri della tenenza di Carini, in servizio congiunto con la locale Polizia Municipale, hanno individuato e denunciato due soggetti che occupavano abusivamente un fabbricato confiscato alla mafia. In particolare, dai primi accertamenti, l'immobile nella frazione di Villagrazia di Carini è assegnato dal 2016 al Comune dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati e il risultato occupato da due coniugi. La donna è figlia di un pluri pregiudicato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso al quale sono stati appunto confiscati tutti i beni mobili ed immobili. I successivi ulteriori approfondimenti hanno permesso inoltre di individuare un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale realizzato mediante collegamento diretto per mezzo di due cavi monofase. I coniugi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo per i reati di invasione di terreni ed edifici, deturpamento e imbrattamento di cosaltrui e furto di energia elettrica con le circostanze aggravanti. Inoltre, a seguito degli accertamenti effettuati alle fiamme gialle, gli stessi sono risultati percettori del reddito di cittadinanza e pertanto segnalati all'Inps, competente per territorio, per l'irrogazione della sanzione amministrativa di arrevoca decadenza del beneficio, nonché per il recupero delle somme indebitamente percepite pari a 8.865 euro. Chiedevano 200 euro per la protezione a due commercianti. I carabinieri di Catania hanno arrestato Rosario Di Bella e Salvatore Strano dai carabinieri di Catania ritenuti responsabili di concorso in estorsione. Ritenuti responsabili di concorso in estorsione, aggravata dal metodo mafioso, i carabinieri hanno arrestato il 39enne Rosario Di Bella ed il 49enne Salvatore Strano, entrambi catanesi. Di Bella è stato arrestato nell'ambito di indagini avviate sulla richiesta del pagamento di 200 euro al mese per la protezione a due commercianti di Mister Bianco. Quando l'esattore ha riscosso il pizzo, ha insistentemente invitato la vittima a salutarlo con un bacio, promettendogli di farsi da tramite per la risoluzione di eventuali futuri problemi di qualsiasi natura. Quando è uscito è stato bloccato dai militari dell'arma. La vittima dell'estorsione, ignara di quanto stesse accadendo, ha da prima negato l'evidenza, salvo poi, di fronte all'insistenza dei carabinieri, ammettere tutto. Dalle dichiarazioni rese dalle vittime, i militari hanno appreso poi che uno dei titolari aveva già subito un'estorsione con il cosiddetto metodo cavallo di ritorno. Salvatore Strano, infatti, dopo aver fatto da intermediario per la restituzione di un'auto rubata nello scorso mese di settembre, aveva chiesto e ottenuto 300 euro per il disturbo. I due sono in regime di custodia cautelare nel carcere di Bicocca. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha criticato l'assenza del presidente della RAP in Consiglio Comunale durante la discussione della vicenda Reset. Per il Movimento 5 Stelle questo scontro è preoccupante per il momento drammatico di RAP e Reset. Ritengo un grave errore l'assenza del presidente della RAP in Consiglio Comunale, perché appare poco rispettoso del ruolo dello stesso Consiglio, nonché dei rapporti tra l'azienda e l'amministrazione. Siamo ben consci delle difficoltà in corso per la RAP, peraltro rispecchiate dalle difficoltà nell'esplettamento di alcuni servizi, ma non per questo possiamo accettare questi comportamenti. Il tema in discussione, quello della mobilità interaziendale tra RAP e Reset, non è secondario e la sua rapida soluzione porterà beneficio ad entrambe, oltre che alla qualità dei servizi resi ai cittadini. L'amministrazione è impegnata a sostenere in ogni modo la Reset e la RAP, i loro lavoratori e i servizi resi. Ci aspettiamo da RAP e da ogni azienda lo stesso spirito di collaborazione. Lo ha dichiarato il sindaco, Leo Luca Orlando, che ha contestato l'assenza del presidente della RAP alla seduta del Consiglio Comunale. Per Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, lo scontro fra Orlando e Norata è un segnale molto preoccupante ed inopportuno di litigiosità fra l'amministrazione e le sue partecipate in un momento già abbastanza difficile per la città, dove le due aziende pubbliche si trovano ad affrontare, per motivazioni diverse, uno dei momenti più drammatici dalla loro nascita. La situazione a Bellolampo è gravissima. La gestione dei rifiuti indifferenziati del Comune rischia di fermarsi. Non c'è più tempo. Siamo in piena emergenza e in rifiuti, dice Randazzo, ed occorre uno sforzo maggiore da parte della SRR dell'amministrazione comunale. La Regione, per concretizzare rapidamente tutte le soluzioni proposte dalla RAP per liberare le aree a Bellolampo e riattivare la piena funzionalità del TMB e del ciclo dei rifiuti urbani. Randazzo chiede alla RAP di non perdere ulteriore tempo. Proceda ad assumere i 94 dipendenti della Reset ed attivi in tempi rapidi le altre isole ecologiche previste e la raccolta differenziata porta a porta a Brancaccio, allo Sperone, Romagnolo e nel Centro Storico. Inolti si avvia un percorso di concerto con l'amministrazione comunale per eliminare i cassonetti stradali, dove i cittadini buttano di tutto e sono fuori controllo. Anche nelle borgate marinare, dove è forte la richiesta dei cittadini di puntare a un sistema misto di isole ecologiche, di prossimità e porta a porta. Vertenza rinascente. Confcommercio Palermo scrive alla proprietaria dell'immobile di Via Roma in Arcassa e a fabbrica immobiliare che ha in gestione il fondo, disponibili a un confronto per scongiurare la chiusura. Confcommercio Palermo nella sua qualità di associazione datoriale più rappresentativa nel territorio cittadino si rende disponibile per eventuali momenti di confronto e dialogo costruttivo sulla vicenda riguardante l'avvertenza rinascente che rischia di lasciare senza lavoro centinaia di dipendenti ed infliggere un'ulteriore grave perdita al tessuto economico della città. In una lettera inviata a Inarcassa, proprietaria dell'immobile di Via Roma che ospita la rinascente e fabbrica immobiliare SGR che ha in gestione il fondo in Arcassa, il presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Diddio, fa appello ai valori etici, sociali e ambientali a cui in Arcassa per statuto si ispira anche nei criteri di selezione degli investimenti e auspica che la società di gestione del fondo sia coerente con gli obiettivi della proprietà. Chi deve perseguire l'obiettivo della redditività dell'immobile, dice la Diddio, non può prescindere da principi di razionalità e convenienza. La cifra richiesta per l'affitto deve essere parametrata al mercato di Palermo e al particolare il contesto storico di un'emergenza senza precedenti e va anche considerata l'assolvibilità e il prestigio dell'inquilino. Mi auguro che la proprietà aggiunga scelte di buonsenso nella consapevolezza che correrebbe il rischio di non trovare inquilini disposti a spendere cifre fuori mercato, considerati anche i vincoli autorizzativi presenti sull'immobile e i drammatici scenari futuri. Bisogna scongiurare la chiusura di una realtà commerciale, prosegue la Diddio, che fino ad oggi è stata a baluardo del centro storico di Palermo e in particolare di via Roma che sta diventando sempre più un cimitero di vetrina a cielo aperto. Più che di parti contrapposte preferirei parlare di interesse comune delle parti in causa, interesse collettivo della città. La disponibilità pubblicamente manifestata dai dipendenti di Rinascente a ridursi lo stipendio per favorire l'intesa è la rappresentazione più drammatica dell'emergenza lavoro che da tempo attanaia questa città. Le istituzioni devono farsi parte attiva per attenuare le conseguenze economiche e sociali di una simile emergenza. Grazie al nuovo incontro inoltre promosso al Governo nazionale per mercoledì 28 ottobre, su richiesta anche del comune e delle organizzazioni sindacali, sulla vertenza rinascente si potrà anche ricercare una soluzione utile a consentire all'azienda di permanere sul territorio palermitano salvaguardando l'occupazione del centinaio di famiglie coinvolte e la qualificazione di un'importante zona del centro storico. Lo dichiarano il sindaco di Luca Orlando e l'assessore Giovanna Marano. Un complesso intervento chirurgico per un 33enne eseguito con una innovativa tecnica chirurgica dall'equipe di chirurgia dell'ospedale San Marco di Catania. Grazie alle stampanti 3D l'uomo ha di nuovo un volto simmetrico. Un complesso intervento chirurgico per un 33enne per riavere un volto simmetrico eseguito con un'innovativa tecnica chirurgica dall'equipe di chirurgia maxillofacciale diretta dal professor Alberto Bianchi dell'ospedale San Marco di Catania. Una brutta frattura riportata in un incidente stradale aveva deformato la parte destra del viso. L'osso si era riparato in modo anomalo creando un'alterazione dell'euritmia facciale fino ad essere ruotato e ribassato rispetto al normale. La novità più importante per questa operazione è stata la pianificazione preoperatoria computer assisted che ci ha permesso di definire le linee di taglio da eseguire per correggere su diversi piani l'osso deformato. Dopo una simulazione virtuale della tecnica sono state realizzate placche e guide di taglio ad hoc da utilizzare in saloperatoria con pezzi unici stampati in 3D senza i quali non sarebbe stato possibile operare, spiega il professor Bianchi. Di fronte ad una compromissione così grave del volto che si era deformato su più piani era impossibile eseguire in modo tradizionale l'intervento di osteotomia che attraverso l'asportazione di un cuneo d'osso lo riporta alla posizione normale. La prima fase è stata dunque un'attacca del cranio, seguita da una mappatura del lato sano per riuscire a progettare nei minimi dettagli il percorso chirurgico con il supporto di un modello informatico, una successione di piccole azioni per arrivare alla possibilità di ruotare i segmenti ossei dello zigomo e della mascella per ripristinare l'anatomia normale. Con lo stesso modello di calcolo avanzato, conclude Bianchi, abbiamo progettato specifiche guide di taglio che sono state indispensabili in sala operatoria. Applicandole sull'osso hanno consentito di eseguire incisioni perfette su più piani, benché molto piccole. Secondo sabato del mercatino dell'usato a Bagheria, promosso ed organizzato dal Rotary Club con l'obiettivo di restituire al pubblico uno spazio prima abbandonato, stimolare il tessuto economico e rilanciare il centro storico. La città sa quello che il Rotary fa, il Rotary penetra nei bisogni della comunità e quindi agisce adeguatamente per cercare di dare soluzioni a quelli che sono questi bisogni. Nella fattispecie abbiamo voluto riqualificare questo spazio con questa iniziativa importante che non solo esalta l'arte ma anche vivacizza un ambiente. Noi abbiamo messo più firme nel territorio bagherese. Il monumento di piazza Polerris accanto al Barrester, l'arco del Padre Eterno restaurato, il crucifisso di Villa Palagonia. Adesso con questa iniziativa aggiungiamo un'ulteriore firma e credo che la città ha risposto gradendo questa nostra iniziativa. È quello che vogliamo fare anche non solo per la città, per l'ambiente eccetera, ma noi operiamo anche per sostenere i bisogni della comunità e questo lo facciamo in modo molto pressante, molto attivo aiutando chi soffre, chi ha bisogno e chi spera in qualche parola di conforto per migliorare le sue condizioni di vita. Grazie. Oltre quindi a quelle che sono le normali, fra virgolette, iniziative del Rotary di promuovere l'arte eccetera eccetera, in questo caso abbiamo fatto un passo in più e cioè sarebbe stimolare anche quello che è il tessuto economico. In questo caso noi cerchiamo con questo progetto che spero sia un progetto pilota di rilanciare il centro storico di Bagheria. Non ci fermeremo al mercatino ma vorremmo andare a creare anche nel centro storico quelle botteghe che negli altri anni, in periodi passati c'erano e che adesso purtroppo sono scomparse. Ecco lo stimolo è proprio questo, cercare di rivalorizzare quello che è tutto il centro storico bagherese perché secondo me il futuro, quindi associare a quello che è la creazione di botteghe d'arte eccetera eccetera, l'aggancio turistico e nello stesso tempo anche gastronomico. A Bagheria le opere di Alec Rebel, in mostra a Billa San Cataldo, una forma d'arte che si distacca dal modello classico, un'arte segnata da un tragico incidente stradale di cui lo sesso artista è stata vittima. Esprimo tutte le mie sensazioni, i miei stati di sapere manifestare i miei modi di vedere a occhio le immagini. L'immagine che riesco a realizzare realizzare mettendo occhio con quello che riesco a osservare, secondo l'osservazione, il mio punto di vista, è tutto qua. Cosa provi mentre dipingi? Quando dipingi? Cosa provi? La bellezza, l'osservazione, provo il piacere, mi fa la soddisfazione di stare bene. Noi siamo convinti che ognuno ha delle diverse abilità e quelle abilità dobbiamo metterle sotto i riflettori. Ecco, Alec ha l'abilità di poter creare delle vere e proprie opere d'arte e stiamo cercando di dare la giusta risonanza alle sue doti. Ci ritroviamo oggi in questo bellissimo scenario proprio perché vogliamo mettere sotto questi riflettori le opere che lei ha portato avanti con grande dedizione e con grande amore. Invitiamo tutti a visitare questa bellissima mostra. Sarà presente dentro la chiesetta sconsacrata dalle ore 10 alle ore 13 oggi e domani stesso orario. Inoltre Villa San Cataldo ha un bellissimo giardino all'esterno da poter anche visionare dove noi abbiamo fatto già diverse attività da cinema per tutti a cinema in villa. Abbiamo fatto anche 20 regioni in 20 giorni e partita proprio da questa villa per tutta Italia. Quindi stiamo cercando di mettere in risalto i nostri beni culturali, le nostre bellezze monumentali e Villa San Cataldo è il nostro fiore all'occhiello. Serie C, Palermo a forte rischio rinvio anche il recupero della seconda giornata contro il Potenza in programma giovedì prossimo allo stadio Renzo Barbera a causa di altri positivi al coronavirus. Il Palermo potrebbe non tornare in campo nemmeno per la gara di giovedì prossimo contro il Potenza. Sembra quella di un nuovo rinvio, l'ipotesi più attendibile a seguito dell'emergenza Covid che ha travolto la società a rosa nero a partire da mercoledì scorso. Domani verrà effettuato un altro giro di tamponi e saranno proprio i risultati a dire se la squadra di Boscaglia avrà a disposizione almeno 13 elementi per scendere in campo. Rinviata al 4 novembre la gara di domenica contro il Catanzaro, giovedì prossimo il Palermo sulla carta dovrà ospitare al Barbera il Potenza per recuperare la sfida rinviata alla seconda giornata. Nel caso in cui il club avesse a disposizione 13 giocatori, compreso un portiere, potrebbe essere costretto a scendere in campo. Fra gli elementi utilizzabili vanno conteggiati anche i quattro giovanissimi del settore giovanile che sono stati aggregati alla prima squadra. È naturalmente da considerare anche la possibilità di un intervento dell'ASP, così come avvenuto tre giorni fa in occasione di Palermo Turris. Il rosa nero dovranno insomma convivere con le incognite, prossima importante tappa dunque quella dei tamponi di domenica. Sarà big match per il Catania che sta lavorando anche per chiudere la trattativa con l'imprenditore Tacopina per la cessione del club o di una grande fetta. Lunedì i Rossoazzurri sfideranno il Bari e il tecnico Raffaele spera di recuperare Antonio Piccolo e Denis Tonucci che si erano infortunati nel riscaldamento della gara contro la Virtus Francavilla. Ed è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata augurandovi un sereno fine settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.